Si è concluso con una condanna, tre anni di reclusione, a carico del 49enne albanese Elvis Ulvio, il processo per calugna a suo carico per aver incolpato ingiustamente, pur sapendoli innocenti, scrive il giudice, quattro carabinieri del nucleo investigativo antidroga del comando provinciale di Teramo, Ernesto Parretta, Corrado Perugini, Claudio Corsetti e Massimo Rubini. I quattro avevano indagato sull'imputato, su un ex collega carabinieri di una stazione dei carabinieri lungo la costa e sulla compagna di quest'ultimo, un'inchiesta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel 2018 il 49enne albanese però si presenta in questura e denuncia i quattro carabinieri per concorso in falso ideologico in atto pubblico e abuso d'ufficio. Nella denuncia querela si contestava loro di aver compiuto volutamente gravi errori, gravi imprecisioni e di aver riportato negli atti dell'inchiesta frasi totalmente distorte e nomi di persone errate nell'ambito dell'attività di trascrizione e sintesi di alcune intercettazioni. Il procedimento a carico dei quattro carabinieri si è concluso nel 2021 con una assoluzione completa, posto che il giudice, a seguito di una specifica consulenza tecnica, ha ritenuto che nulla fosse stato compiuto in malafede dai militari del nucleo investigativo e che la presunta errata trascrizione di alcuni passaggi di quelle intercettazioni si dovesse all'ampio uso del dialetto albanese. Fatto sta che, ottenuta l'archiviazione a loro carico, i quattro carabinieri hanno controdenunciato il loro accusatore e ora è arrivata la sentenza di condanna a tranni di reclusione, a firma del giudice Claudia Di Valerio.